5.9 il 20 maggio 2012, 5.9 il 6 aprile 2009, in una casistica dove terremoti forti partono da 6.0 gradi Richter, 5.9 gradi Richter e un terremoto moderato. Così tutto appare normale, ma i terremoti sono in aumento, per solo uno 0.1 gradi Richter di differenza. Nuovi terremoti nell'autunno del 2012 negli Stati Uniti d'America, California, Italia e area mediterranea. Successivamente le creature extraterrestri torneranno al pianeta Nibiru, sul pianeta Terra, così torneremo tutti a essere fratelli, fratelli tra di noi nell'universo, ci incontreremo di nuovo. Dove c'è acqua c'è vita e c'è vita in tutto l'universo. Oggi è il 5 settembre 2012, una giornata piena di sole dopo alcune giornate di pioggia e vi faccio vedere nuovamente la torre di Velate, una visita turistica all'italiano in tutto il suo splendore per il sole. Siamo nella città di Varese, la zona è Velate in Italia. Questa è la torre medievale di Velate, una torre semidistrutta durante una guerra nel Medioevo tra milanesi e comaschi, molto antica, molto bella. L'hanno è una zona ristrutturata qualche anno fa, bisognerebbe solo ricostruirla nelle sue parti mancanti. Questa è una zona piena di alberi ultrasecolari, molto belli. ecco qua un bell'esempio, un bellissimo albero e vi voglio portare a vedere un albero, un castagno ultrasecolare che sta dietro la torre, sulla stradina per la torre. Ecco, questo è il suo tronco, come vedete è veramente imponente, enorme. Qua siamo in piena campagna, a Velate, città di Varese, in Italia. Ci sono tutte le piante attorno al tronco ed ecco il castagno ultrasecolare e la nostra torre. Siamo sotto il Monte Campo dei Fiori, il Sacromonte di Varese. Ancora una visita alla nostra torre. famosa in zona, la torre di Velate, un'antica torre di avvistamento distrutta appunto nella guerra tra milanesi e comaschi nel Medioevo. Oggi è il 5 settembre 2012, una bella giornata di sole. La vediamo anche sotto altri punti di vista. ecco la nostra bella torre. in una splendida giornata di sole del 5 settembre 2012. 2012. Arrivederci alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.